Pazienti insultati, abbandonati, malnutriti e alimentati solamente con riso o con pane raffermo, bagnato con acqua o latte, sono le telecamere nascoste dai carabinieri nell'unica sede a Serra di Falco, nel Nisseno, di due comunità per assistenza a disabili fisici, a svelare il clima che si viveva in quello che gli stessi investigatori, in una nota ufficiale, definiscono un lager in cui vivevano nove ospiti. I militari dell'arma ritengono emblematico un episodio dove uno degli ospiti, cieco, viene picchiato brutalmente dall'operatore perché è colpevole di aver orinato al di fuori del water. La struttura è stata sequestrata e un operatore, accusato anche di violenza sessuale aggravata, è stato portato in carcere. È accusato di abbandono di incapaci e di esercizio abusivo della professione infermieristica per aver somministrato medicina e benché sprovvisto di specifico titolo professionale. Per il gestore e un'operatrice sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare messo dal GIP di Caltanissetta, su richiesta della locale procura, è stato notificato dai militari dell'arma anche a due dipendenti che sono stati interdetti dalla professione per un anno. Gli ospiti di concerto con l'ASP sono stati trasferiti in altre strutture. L'inchiesta, denominata Bad Caregiver, si basa su indagini dei Nasse di Ragusa e dei carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta. L'attività investigativa è scaturita da un controllo eseguito nell'ambito di servizi disposti in campo nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, di intesa con il Ministero della Salute, finalizzati a monitorare la corretta gestione delle strutture socioassistenziali.